In Kenya, lo slam, dove la suora va a visitare gli ammalati, una suora giovane, dove vanno con i masai e io dico, e come se li stringe, come se li cura? Io dico, qui ci vuole una vocazione. Io sono edificata, perché tu capisci che io passo e sto, non so, due ore, sto una giornata nel villaggio, ma la mia sorella ritorna e va lì e va per le vaccini e va da quella mamma e va dall'altra parte con la Toyota e tutti i giorni lo stesso e tutti i giorni con la stessa carica umana, con la stessa carica spirituale, senza imporre niente, condivide anche quel poco che le danno, che a volte noi siamo schifignosi e lei dice no, non è possibile, l'inculturazione ti chiede anche questo e se io gli dicevo, se ti prendi una malattia, ma no, che io ho fatto le difese, ma non preoccuparti. Cioè qui ci vuole una vocazione, se no non reggi eh.